buongiorno oggi abbiamo una sorpresa il vero caviale di mare la grande granseola piena di uova questo chi mangia questo che è super afrodisiaco galattico quindi queste per amanti per una coppia che passa nel carruggio vede questo splendido esemplare di caranca con le uova una femmina molto bella e la pasta per quattro persone diventa super super afrodisiaca evviva la granseola poi facciamo questo guarda che morena mamma mia è bravo che fritta la più buona del mondo cioè senza sperare la fritta la dovete mangiare e triglia vado continuiamo ed ecco arrivare la morena la morena arriva e si ecco che fanno il sesso col grongo polpo mario perché da noi pesce è vivo